San Rocco Rocco è uno dei santi più venerati nella tradizione popolare italiana nacque nel XIV secolo a Montpellier in Francia rimasto orfano in giovane età dopo aver distribuito tutti i suoi beni tra i poveri della città andò in pellegrinaggio a Roma imbattutosi nella desolazione prodotta dalla peste si offrì volontario nel lazaretto dove operò guarigioni miracolose operò guarigioni miracolose a Cesena, Roma, Rimini, Novare e Piacenza dove infine contrasta il morbo della peste protettore della Turchia, di Montpellier, di Scilla e patrono dei pellegrini, dei carcerati, dei malati medici e dei farmacisti è invocato contro la peste e ogni tipo di malattia contagiosa